Con la professione che faccio, quindi in mezzo ai cani, a destra e a levo, l'utilizzo del BBS Planet per me è indispensabile, perché è un prodotto professionale che mi mette in una situazione con un unico prodotto di coprire tante funzioni. In un unico colare poi abbiamo il GPS, l'educativo e anche il biper e in genere, sappiamo tutti, per avere queste tre cose avevamo, i nostri ausiliari avevano tre collari, tre collari molto scomodi, soprattutto anche noi più palmari, in questo modo raggruppiamo tutto in uno. Il collare non ha sistemi di accensione, quindi si può solo accendere con il palmare, quindi è fondamentale anche perché comunque sappiamo siamo in situazioni particolari dove comunque il cane può essere anche recuperato da altre persone, in questo modo non possono spegnere il collare, abbiamo sempre la gestione del nostro ausiliare in mano. Comodissima anche la pulsantiera perché mi permette anche a mani bagnate di utilizzarlo, comodissima in tutte le situazioni. Questo sistema è secondo me perfetto per i cani da seguita e anche allo stesso livello per i cani da ferma, perché comunque noi aspiriamo sempre a cani più veloci, più cani che prendono sempre più terreno nonostante siano da ferma e quindi abbiamo tanta necessità di un sistema professionale di questo genere.